titoli da mettere in portafoglio anche questa settimana dedichiamo una parte della nostra diretta questo per dare indicazioni alla luce delle notizie che ci circondano allora svelo subito il primo titolo che hai scelto poi andiamo con il secondo partirei se sei d'accordo da safilo parliamo di occhiali da vista da sole insomma una azienda italiana attiva nella produzione di occhiali da vista e da sole allora perché safilo e poi andiamo a vederlo graficamente allora perché safilo diciamo che quello che è il comparto lusso moda eccetera eccetera partendo da toz dalla dalla situazione farragne se chiamiamola così ma anche geox un titolo che avevo segnalato in una precedente pillola con te unito in quell'occasione a carrefour che sta stra andando bene non andando bene stra andando bene quindi su questa dimostrazione che bisogna andarli a cercare i titoli safilo fa parte di questo comparto che appunto insieme a tos e cose via si sta risvegliando è un comparto che ha subito tantissimo il downtrend in generale la stessa tos stava a 140 euro adesso sta a 37 safilo altrettanto è scesa tantissimo se possiamo vedere il grafico di safilo quello che secondo me balza agli occhi in maniera abbastanza evidente è che safilo sempre su un time frame settimanale ha subito un lunghissimo downtrend quindi una fase di discesa importantissima tanto da arrivare sotto il livello di un euro addirittura 0 50 e lì si è andato a formare quello che in analisi tecnica si può chiamare bottom o fondo eccetera eccetera si è evidenziato un doppio minimo che io ho segnalato con le due frecce in rosso e quindi da lì gli investitori probabilmente hanno cominciato una lenta e silenziosa fase di accumulazione ossia un titolo che cotava 6 euro e anche molto di più negli anni addietro è arrivato a 0 50 centesimi da lì la ripartenza soglia psicologica e resistenza che forno un rettangolo quindi va a evidenziare questa questa figura in giallo di trading range e quindi tra 0 50 e un euro si è sviluppata questa lunga fase di trading range di oltre un anno e poi nelle ultime settimane la rottura rialzista segnalo che anche adesso mentre parliamo safilo a fronte di un mercato debole è in positivo quindi a mio parere safilo ha svoltato ossia il downtrend è diventato un uptrend e ripeto avendo rotto anche un euro soglia psicologica importantissima credo che una size molto contenuta vada messa in portafoglio io ho anche segnalato una possibile prima area di target che è la prima vera resistenza che sia sul grafico a 1,60 che può sembrare poco rispetto ai 6 euro eccetera eccetera ma se adesso safilo è a 1,10 già rivederla 1,60 significherebbe fare quasi un più 50 per cento di rendimento safilo secondo me è un titolo che graficamente ha dato un importante segnale rialzista secondo titolo servizi italia parliamo sempre ovviamente di una società italiana che in questo caso opera nei servizi di noleggio lavaggio e sterilizzazione di articoli tessili e di strumentario chirurgico e parliamo di un servizio per strutture socio assistenziali e ospedaliere allora il tema ci riporta estremamente all'attualità però non so se è anche per questo che tu l'hai scelto perché servizi italia beh innanzitutto complimenti per chi hai studiato hai dato esattamente il core business dell'azienda è importante sottolineare che opera sia per strutture pubbliche che private e tendenzialmente dovremmo anche far mente locale che sterilizzare fare noleggi lavare eccetera eccetera quello che è diciamo vestiti strumenti tessili eccetera eccetera è un qualcosa che potremmo definire come anticiclico ossia pur in un periodo di ipotetico storno delle borse discese eccetera eccetera questa società il suo il suo business la sua attività non dovrebbe risentirne perché chiaramente non è un qualcosa a cui si può rinunciare detto questo vediamo il grafico sempre si scusami dimmi no no scusa altrettanto interessante appunto la situazione grafica siamo sempre sul weekly io ormai più o meno chi segue chi chi ha la pazienza di seguirci sulle fonti sa che prediligo sempre il weekly perché perché per andare a dare a un ascoltatore un'idea di quella che è la situazione il weekly ci fa capire se dobbiamo puntare al rialzo o al ribasso il time frame inferiore il daily ci può dare il timing cioè quando entrare ma secondo me un servizio ottimale si può fornire intanto dicendo guarda che questo titolo ha impostato in questa direzione detto questo servizi italia stessa stessa situazione da un trend prolungatissimo quindi scorrelato dagli indici forma il cosiddetto bottom che non traduciamo dall inglese perché antipatico ma comunque diciamo un fondo un doppio minimo importante e da lì ripartenza attualmente vediamo che si è formato un triangolo rialzista il triangolo rialzista in analisi tecnica prevede dei minimi crescenti e alla parte alta che la resistenza statica che dovrà essere rotta quindi mentre per safilo secondo me da portafogliare immediatamente servizi italia da mettere nella cosiddetta watch list cosa vuol dire che i 2 euro e 50 sono un livello di resistenza importantissimo che se sarà rotto darà il segnale di acquisto per avere un primo target ai 3 euro e poi successivamente alla resistenza massima del 2019 ai 3 euro e 50 e comunque ripeto superamento di 2 euro e 50 sarà la conferma secondo me dell'avvenuta inversione del trend da ribassista rialzista bene questi sono i titoli di questa settimana da mettere in portafoglio grazie quindi a enrico j grazie per la visione